Vi lascio invece a resoconto di un nuovo appuntamento della rassegna Building a Puglia e con l'informazione del telegiornale solo per ora è tutto, restate con noi su Telebari e buon proseguimento di serata. Si è parlato della città di Taranto al quinto incontro della rassegna Building a Puglia costruendo l'identità della Puglia, la Puglia che scrive, che edita, che parla di sé. Iniziativa del servizio biblioteca e comunicazione istituzionale del Consiglio regionale della Puglia. Due i volumi presentati, L'Alto Forno, L'ilva nei racconti e nelle canzoni di un cantautore di Taranto di Daniele Di Maglie e Taranto fa l'amore a senso unico di Gianluca Marinelli. Nel primo, il rapporto tra Taranto e lo stabilimento Italsider viene narrato per esorcizzarne le problematiche salite ormai agli onori della cronaca. Un libro da leggere ma anche da ascoltare grazie al cd in allegato. L'Alto Forno è una raccolta di racconti e di canzoni che parlano di Taranto, del rapporto fra Taranto e la fabbrica, lo stabilimento, Exital Cider, Ilva. Nel primo racconto, Sisi Forea, ambasciatori di minuzie, ho voluto declinare una sorta di personificazione di questa presenza, chiamandolo Sifone. Con questo nome ho voluto sia entificare questa presenza, sia avviare un discorso sul fatto che questa fabbrica governa la città da più di un cinquantennio e dividendo il periodo del suo governato in due fasi. La prima fase si fonda sulla sola evidenza della sua presenza. Nella seconda fase, sempre nel racconto in questione, il Sifone comincia a manifestare espressamente la volontà di assoggettare la città. Il secondo è un volume di storia dell'arte e indaga sulla relazione tra arte e industria, proprio negli anni della costruzione dell'Ital Cider. Quali gli aspetti positivi e negativi ce lo racconta l'autore. Si tratta di un libro di storia dell'arte che cerca di ricostruire il delicato rapporto arte-industria che si viene a determinare a Taranto negli anni 60 e 70, cioè negli anni in cui veniva costruito lo stabilimento siderurgico Ital Cider. Quello che emerge dalla ricerca è un rapporto complesso e contraddittorio. Little Cider viene percepita sin da subito come una minaccia da parte degli artisti, i quali traggono stimolo per sviluppare nuovi temi per la loro ricerca, però è al tempo stesso una possibilità che offre agli artisti l'opportunità di realizzare delle sculture monumentali o di realizzare ad esempio dei libri d'arte che diversamente non avrebbero potuto pubblicare. Il prossimo appuntamento sarà dedicato al tema Città di Puglia, Bari.